guardi un po' che è andata dalla camera guardami guardami io lo compagno è io credo che la macchina è fotografica 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 sono contro vento io credo che la macchina è fotografica guarda che l'acqua è caro non importa che l'acqua è caro guarda che l'acqua è caro scherzo non vedo che l'acqua è caro perché il tuo那個 è un pennello è un pennello quindi la macchina è fotografica Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie Grazie